Musica Con numero 12, Pasquale Cacace. Con numero 13, Salvatore Morsolo. Con numero 14, Giuseppe Leguori. Tutti quanti a disposizione. Chiudino, chiudino! Buongiorno! Grazie a tutti. 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 E' un'altra cosa. Quindi una vittoria importantissima per il gruppo, per il morale, per i ragazzi. Perché tu devi pensare, non voglio dire la giustificazione, che oggi avevamo 5 squalificati e più di 2 infortunati, 7 calciatori fuori. Quindi do atto al mister do atto al mister Sanchez che ha preparato la squadra durante la settimana, ha dovuto inventare la difesa, un po' il centrocampo. Do atto perché comunque è stato bravo.